Assessore, cosa possiamo rispondere ai residenti sulla situazione dell'ex asilo Manfrini tra impalcatura pericolante e i futuri progetti? L'immobile Manfrini ha un'impalcatura che abbiamo già segnalato per la sua inadeguatezza. Ricordiamo che quell'immobile non è del Comune di Fano, ma del demanio regionale. Su quell'immobile c'è un interesse da parte del Comune di Fano perché è in un punto strategico di una zona meravigliosa che deve essere riqualificato. Per cui possiamo comunicare che c'è in corso da parte del nostro Comune una richiesta di trasferimento del bene attraverso la legge del federalismo demaniale e culturale con un progetto nuovo che stiamo portando avanti di completa rifunzionalizzazione dell'immobile per restituire lo stesso alla comunità portuale in un posto strategico e molto caratterizzante. Per cui c'è un iter che noi stiamo facendo per far sì che il demanio ce lo trasferisca, in modo tale così che il Comune di Fano possa comunque mettere in sicurezza con agevolezza l'immobile, ma allo stesso tempo anche valorizzare completamente l'immobile stesso e tutto il quartiere legato al porto.